Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Marco Casario e benvenuti nel mio canale. Ragazzi, giornate incredibili, se le state seguendo con me sul mio canale avrete visto nell'ultimo periodo sto facendo più video, due, tre video al giorno se riesco di update perché sta succedendo veramente di tutto. Abbiamo visto che la market capitalization ormai sta puntando dritta, guardate questo numero qua, dritta al trilione di dollari, siamo a 765 miliardi di dollari, 765 e 223 spicci, diciamo così, quindi una market capitalization che continua a crescere giorno dopo giorno. Questo è il volume delle ultime 24 ore, guardate 64 miliardi e la dominance di bitcoin, quindi il rispetto alla market capitalization è stabile intorno ai 33,73, ha recuperato quasi un punto percentuale rispetto a ieri che aveva toccato i 33. Insomma ragazzi, grandissimo interesse sul mercato delle criptovalute ad eccezione dei bitcoin, volevo farvi notare anche un'altra cosa, avete fatto caso come i media, soprattutto quelli generalisti, stanno parlando sempre meno di bitcoin e sempre più delle altre criptovalute. Addirittura ho visto articoli in italiano su testate giornalistiche di finanza ma anche generaliste, parlare di ripple, parlare di ethereum e fate caso a questa cosa, credo che oggi accadrà la stessa cosa. Quindi che cosa succede? Quando l'interesse dei media, soprattutto quelli generalisti, si sposta su qualcos'altro, la massa va a aggredire gli altri mercati. Ed è quello che è successo secondo me proprio negli ultimi giorni, guardate qua, nelle ultime ore, ripple 3,22, fa un 100%, questa ragazzi è la colonna dei valori percentuali di prezzo, delle variazioni percentuali di prezzo nella settimana, questa nelle 24 ore e questa colonna nell'orario. Quindi nonostante nelle ultime 24 ore scende del 13% ripple, infatti si posiziona a 3,22, nella settimana ha fatto un più 102%, ha raddoppiato praticamente il suo valore in 7 giorni. Ethereum, incredibile quello che ha fatto ieri ethereum ragazzi, e ethereum tra l'altro, secondo il mio modestissimo parere, non so come, non so in che modo, non so quando, ma ha due update importanti che vi chiederei a cui prestare attenzione e cui magari poi parlerò in un video a parte. Casper e Plasma. Questi sono due update importanti che potrebbero impattare in maniera positiva o se succede qualcosa in maniera negativa sul prezzo di ethereum, questo vuol dire che ethereum ha nei prossimi giorni o al rilascio di questi update, ha possibilità di muovere in un senso e in un altro il suo prezzo. Per adesso, ieri ci ha fatto un più 11%, ha quasi raddoppiato il suo valore negli ultimi 7 giorni e si è posizionato intorno ai 1065 dollari. Ragazzi, incredibile quello che ha fatto ethereum. E poi eccoci qua con bitcoin cash, che forse è l'unica, una delle poche cripto che sta perdendo nell'arco della settimana, ha perso un 5,88%, è sceso sotto il muro dei 2400 dollari. E poi ecco qui i protagonisti degli ultimi giorni. Cardano, quinto posto, 1,10 dollari, quindi rompe il muro del dollaro e comunque si attesta sopra il dollaro 10, nonostante abbia perso nelle ultime 24 ore un 11%. Lo sapete ragazzi, un'altra cosa che ho notato molto è che nella sessione italiana, e guardate vi porto in una parte di questa applicazione che ci permette di vedere meglio le sessioni orarie, Ho notato che nella sessione, vedete adesso sono le 8 di mattina, e queste sono ancora le città e quindi i continenti svegli. Quindi a Mumbai è mezzanotte, sono le 3 del pomeriggio a Singapore, sono le 4 del pomeriggio a Tokyo, sono le 6 del pomeriggio a Sydney, sono le 8 di sera del pomeriggio a Auckland. E adesso sono le 8 di mattina qua in Italia. Vuol dire, questo grafico è molto utile, questa sessione è molto utile per capire le sessioni di mercato. Ragazzi ho notato che la sessione asiatica oceanica porta tendenzialmente a far scendere un pochino, flettere un pochino i mercati. Quindi è come se il giorno nella sessione italiana, e quindi europea e americana, poi nel pomeriggio, i mercati vanno verso l'alto e poi flettono un pochino la sera, e la notte, la nostra notte italiana, che corrisponde però al giorno in Oceania e in Asia. Ed è per questo che Ripple, perché Ripple me ne sono andato a dormire, che stava messo abbastanza bene, stesso discorso per Cardano. Invece Cardano qui nelle 24 ore perde l'11%, comunque ragazzi nella settimana fa un più 150%. Adesso voglio proprio parlare, oggi voglio parlarvi di due, fare un attimo un recap di Stellar e Cardano, quali sono le caratteristiche di queste due criptovalute, per spiegare anche tutto questo interesse. Tron supera NEM, si posiziona al sesto posto per capitalizzazione di mercato a 15 miliardi e 470, salta 0,24 dollari, qui ad un passo dal quarto di dollaro, fa un più 58%, quasi un più 60% nelle ultime 24 ore, nonostante, vedete qua, nell'ultima ora fa un meno 6%, e qui impatta la sessione asiatica ragazzi, perché l'Italia e l'Europa si sta svegliando adesso, ma guardate questo numero, fa un più 521% nella settimana. NEM, settimo posto, si fa superare da Tron, ma anche lui sta abbondantemente sopra il dollaro e mezzo, sta a un dollaro e 67%, fa un 78% in questa settimana, con un meno 11% nelle 24 ore. Stellar Lumens, che ormai supera Litecoin e si posiziona all'ottavo posto, 13 miliardi, tra l'altro ieri l'avevo visto al settimo posto, l'avevo visto superare NEM per qualche minuto, a 0,75 dollari, fa il 210% nella settimana e un meno 15% nelle ultime 24 ore. Quindi ragazzi, Cardano e Stellar, andiamo ad aprire Cardano, un attimo qui la scheda, allora Cardano abbiamo detto che sta sul dollare 9, che vuol dire 0,90 centesimi, vedete qui sotto, 0,90 centesimi di euro, capitalizzazione di mercato a 28 miliardi, guardiamo un po' come si sono spostati i volumi nell'ultimo mese, guardate come sono cresciuti i volumi, qui siamo intorno al 15 dicembre, primo incremento di volumi, secondo incremento a Natale e poi esplosione, guardate qua, 31 dicembre e questo è l'inizio dell'anno. Guardate il grafico di Cardano nell'ultima, aspettate fatemi fare un po' di zoom, nell'ultima, queste sono, mettiamo a 4 ore il grafico, guardate qua che cosa ha fatto, incredibile. Prima impennata, poi un po' di stasi, seconda impennata, un po' di stasi, terza impennata. Questa si chiamano step in analisi tecnica, vedete questi scalini che fa il grafico, che sale praticamente in linea retta per poi lateralizzare e poi fare un'altra salita retta. Adesso il prezzo sta un pochino flettendo, vedete qua nelle ultime ore, forse con uno zoom vedete meglio, vedete nelle ultime ore sta un po' flettendo, però lo ha fatto già le altre volte, quindi Cardano, ragazzi, Cardano è definita una criptovaluta di terza generazione. Sapete che le criptovalute di prima generazione, la prima generazione è Bitcoin, la seconda generazione è Ethereum e la terza generazione, della terza generazione fa parte Cardano e non solo, ovviamente. Poi magari parlerò un giorno di qual è la differenza tra generazioni di criptovalute. È formato, ragazzi, da un team piuttosto interessante, perché è un team composto da ricercatori scientifici, quindi dietro a Cardano ci sono ricercatori scientifici, fisici, matematici, quindi gente molto esperta in ambito, tra l'altro criptografico. È formato da due livelli, da due layer, come direbbero gli americani, e un cosiddetto settlement layer, che si prende cura di tutte quante le transazioni, e un computation layer, che permette di avere applicazioni decentralizzate e smart contract, operando in maniera separata rispetto al primo layer. Quindi il primo layer gestisce solo le transazioni, hanno fatto questa separazione, che secondo me è una separazione molto intelligente. Un livello si occupa solo delle transazioni, un altro livello si occupa solo degli aspetti di applicazioni decentralizzate e smart contract. Ha riscosso un grande interesse nelle ultime settimane da parte dei media, motivo per cui, ragazzi, sta facendo questi numeri qua, 149% nell'ultima settimana. Vi ricordo che la circulating supply è altina, siamo a 25 miliardi rispetto ad una maximum supply di 31 miliardi, capitalizzazione di mercato 28 miliardi, ovvero 23 miliardi di euro, il volume delle ultime 24 ore è alto, 493 milioni di dollari, ovvero 408 milioni di euro. E questo, ragazzi, era Cardano, quindi ho voluto farvi un attimo una sintesi su Cardano, facciamola anche su Stellar, però vi dico una cosa, nel mio canale trovate video di approfondimento tecnico, sia su Cardano che su Stellar Lumens, quindi andatelo a, vi consiglio di andarli a vedere. Ecco qui che cosa fa Cardano dal punto di vista del grafico. Guardate qua che aumento parabolico e poi, arrivato a questo livello, una piccola flessione dovuta alla giornata di ieri. Infatti vedete che nelle ultime 24 ore perde il 15%, stava arrivando, aveva toccato i 0,85 dollari, dopodiché è sceso e oggi sta recuperando. Comunque negli ultimi 7 giorni ha fatto il 210, quasi 211%. Allora ragazzi, Stellar è un progetto che, diciamo, ha con le più basse, le più veloci transazioni. Le transazioni Stellar sono comprese tra i 2 e i 5 secondi, quindi diciamo che ha il focus sulla velocità delle transazioni e permette di scambiare, di effettuare appunto transazioni tra banche, ma anche tra governi. Quindi molti dicono, e vi dico la verità, la mia opinione personale, la penso anch'io, dal punto di vista tecnologico è migliore di Ripple, dal punto di vista tecnico quindi, sta ricevendo tantissima attenzione da parte dei media e non ci dimentichiamo che qualche settimana fa è stata annunciata la partnership con IBM che sta utilizzando il network di Stellar per sviluppare un sistema di pagamento cross-border con alcune grandi banche a supporto. Anche per esempio la Deloitte sta, un'altra azienda, un'altra multinazionale molto famosa, è partner di Stellar. Quindi grossi nomi dietro Stellar, grosso interesse dietro Stellar e Cardano che giustificano evidentemente questa loro impennata per quanto mi riguarda veramente troppo 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 grande però dal punto di vista della capitalizzazione di mercato giustificano l'interesse che c'è stato dietro. Ragazzi vedremo, ormai ogni giorno andiamo a braccio, voliamo a vista come si dice perché può succedere veramente di tutto. Come ho detto ieri ritengo poco sostenibile questa crescita con questi aumenti mi piacerebbe vedere il mercato che si ferma un attimo, si ferma a riflettere diciamo così perché crescere a questi livelli è davvero poco sano e poco sostenibile ma questo è quello che penso io e i mercati fanno come al solito quello che vogliono loro. Ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate voi di queste due criptovalute e di quello che sta succedendo lasciatemi un commento, grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti, ciao!